Qual è lo stato di salute del commercio? Quale le criticità e il livello di innovazione e chi e perché ha deciso di andare sull'online? Di tutto ciò parleremo in una nuova puntata di Password, quindi ben ritrovati. Abbiamo raccolto testimonianze in Valle Ufita, sulla città di Ariano, sul suo centro storico e su Via Cardito, sulla SS90 delle Puglie, dove insiste uno dei centri commerciali naturali del paese. E siamo andati anche a Grotta Minarda e Mirabella e Clano, tre realtà storicamente votate al commercio e che oggi vivono difficoltà e anomalie. Allo stesso tempo noteremo come il settore ha cambiato pelle, si è adeguato ai tempi e alle esigenze del consumatore. Quindi diamo il benvenuto a chi ci ha raggiunto in studio, al presidente della Confcommercio Reste la Stella, presidente è ben ritrovato, e all'assessore al commercio del comune di Ranierpino, Filomena Gamba Corta. Buonasera a lei. Prima di entrare nel vivo del dibattito vediamo il nostro primo contributo video, dove a Grotta Minarda, commercianti che resistono e proprio attraverso la loro esperienza comprendiamo i problemi con cui quotidianamente devono fare i conti. Vediamo. Mi meraviglio quando sendo anche per televisione dire che il potere di acquisto è aumentato nelle tasche degli italiani, ma gli effetti non si vedono. Ci sono cause di una difficoltà di ragionamento con gli istituti bancari che rendono difficile un accesso a credito che potrebbe rilangiare anche delle attività che purtroppo molte hanno chiuso. Probabilmente se ci fosse stata una facilità di accesso a credito avrebbero potuto salvare il salvabile e non tirare giù le saracinesche. Chi resiste secondo lei? Chi resiste? È una domanda da un milione di dollari. Chi resiste è il caparbio, non semplicemente il caparbio, ma soprattutto chi innova le proprie attività attraverso un ragionamento anche di globalizzazione. Mi ricordo che una decina d'anni fa, nelle varie riunioni che facevo con le attività commerciali, dicevo sempre attenzione perché il commercio sta cambiando. Sta cambiando con la globalizzazione che c'è stata, che con un semplice click mi posso ritrovare a comprare un prodotto in Australia e mi arriva con prezzi sicuramente più appetibili. Infatti devo cogliere l'occasione di ringraziare anche il presidente Costantino Capone che con la Camera di Commercio si è prodigato nell'incentivare il discorso online attraverso dei bandi ben precisi che permettevano le piccole attività di attrezzarsi con computer, PC o eventualmente software che permettevano questo tipo di vendita online. Quindi potenziare le attività presenti. Che cosa si può fare? Secondo lei qual è una delle possibili soluzioni per il settore commerciale? Allora per il settore commerciale innanzitutto ci dovrebbe essere più comunicazione e collaborazione con le amministrazioni. Un rapporto che non è solamente Grotta Minarda ma in tutte le realtà noto visto che sono un rappresentante sindacale della Conf Commercio a livello provinciale mi rendo conto che ci sta molta difficoltà nei ragionamenti con le amministrazioni al sostegno delle attività commerciali o perlomeno di recepire quali sono le nostre problematiche e trovare insieme delle soluzioni. Un'altra soluzione quale potrebbe essere? Che il 70-80% delle piccole attività sono presenti in locali dove si paga un fitto e il fitto è un'altra cosa che incide molto per quanto riguarda la vita di un'attività. Quindi un ragionamento bisogna farlo anche con i titolari e i proprietari delle mura dove sono ubicate le attività. Questo è un altro tipo di soluzione. E poi ci sta il discorso tasse. Il discorso tasse è un discorso che bisogna affrontare con le amministrazioni. È un'altra cosa che va a incidere pesantemente sulle attività. Quindi se noi facciamo la sommatoria di queste cose vi rendete conto che ogni attività la mattina si deve alzare e deve davvero sgomitare, lottare per cercare di far fronte a tutte queste tante spese che bisogna affrontare con la difficoltà poi di ricevere ancora più utenza per migliorare le proprie vendite. Affitti e difficoltà di accesso al credito bancario. Direttore, il 2015 come è stato per il settore orpino, per il settore commerciale orpino? Un anno, dire difficile, è un eufemismo totale. È stato un anno particolarmente complesso proprio perché era il terzo anno di crisi piena e solo, come diceva allo stesso l'amico Tommaso Remondelli, il nostro validissimo rappresentante proprio proprio sul commercio, soltanto le aziende che già da qualche anno si erano organizzate in un certo modo sono riuscite a superare anche il 2015, non la crisi perché la crisi ce l'abbiamo ancora adesso, però ce l'hanno fatta a superare un altro anno e ci auguriamo a gettare le basi per il futuro. Lui sostanzialmente ha messo in evidenza due questioni effettivamente fondamentali per un'attività commerciale normalmente piccola, una difficoltà oggettiva di accesso al credito praticamente blocca qualsiasi iniziativa di investimento o di cercare di rimanere validamente sul mercato. Così come pure ce l'hanno fatta non senza patemi danni ma sempre con difficoltà quelle attività che praticamente sono legate a delle caratteristiche tipo la proprietà dell'immobile hanno ridotto purtroppo il numero di eventuali dipendenti portandola a un'azienda prettamente a conduzione familiare quindi riducendo drasticamente tutti i costi e stando particolarmente attenti chiaramente alla merce acquistata, venduta quindi a mantenere un validissimo rapporto di qualità prezzo sulla merce messa a disposizione del pubblico. Però effettivamente è stato un anno difficile. E qual è il settore che resiste meglio? Ma non c'è un settore che resiste meglio perché resistono meglio quelle attività di nicchia però parliamo di numeri esigui che offrono o un servizio o un prodotto che il consumatore sa di trovare solo presso quelle attività. Tutte le altre che praticamente mettono in vendita prodotti che più o meno si possono trovare ovunque, parlo tanto dei grandi marchi, tanto della merce diciamo più a buon mercato tra virgolette, oggettivamente è legato tutto all'ubicazione, alla capacità imprenditoriale del titolare e soprattutto è fondamentale il valore aggiunto che il titolare stesso può dare rispetto alla vendita della propria merce. Cioè quella consulenza che è stata tipica, storicamente sempre esistente da parte dei titolari di attività commerciali, consulenti da offrire gratuitamente a qualsiasi cliente, a consigliare il cliente su quale oggetto può essere migliore rispetto al prezzo, rispetto alle condizioni soggettive e così via. Sembra un ritorno ai negozi di vicinato? Però su basi totalmente diverse, nel senso che il fatto del valore aggiunto legato alla consulenza del titolare e soprattutto per la concorrenza fortissima che negli ultimi 10-15 anni viene dalla grande distribuzione. La grande distribuzione ha la capacità e la caratteristica di offrire quasi qualsiasi tipo di merce, ma io vado lì, compro e non ho alcuna consulenza su com'è quel prodotto, a meno che non lo conosco. Il piccolo commerciante ha ancora dalla sua il vantaggio di poter supportare il cliente da questo punto di vista, però deve fare tantissimo per fare in modo che poi il prezzo sia comunque concorrenziale. La scommessa ormai da qualche anno è su questo. Soffermiamoci anche sulla questione dei locali in affitto dove abbiamo sentito l'intervista in cui se ne parlava. Ad Ariano, ad esempio, direttore in zona Cardito, parliamo di affitto locali a 10 euro al metro quadro e 15-20 al centro storico lungo via d'affitto. Quindi circa 5.000 euro al mese e 60.000 euro all'anno solo per i fitti vanno via. Sempre nel comune del Tricolle la civica amministrazione ha fatto un progetto sui negozi sfitti in centro con sgravi fiscali. Assessore Gammacorta, avete avuto dei riscontri oppure nessuno ha aderito? Allora, lo scorso maggio l'amministrazione comunale ha pensato di dare un segnale di vicinanza proprio alle attività commerciali e abbiamo fatto un po' di ricerche, abbiamo verificato la possibilità di immaginare degli incentivi che riguardassero esclusivamente la Tari, la tassa sui rifiuti, perché le amministrazioni comunali non hanno grande autonomia, quindi non è che possono decidere se riscuotere o meno una tassa. Solo con la legge di stabilità del 2004 è stata prevista questa possibilità, solo in riferimento alla Tari e che avesse poi una copertura con fondi comunali, per cui ci siamo resi conto che magari il centro storico stava attraversando un momento di maggiore difficoltà e quindi abbiamo immaginato questo tipo di finanziamento, abbiamo fatto un bando dando la possibilità a tutti i nuovi insediamenti del centro storico. Quindi esclusivamente ai nuovi insediamenti? Sia come nuova attività ma anche come attività aggiuntiva a quella precedente, magari qualcuno che volesse aprire una seconda sede, la possibilità di non pagare la tassa rifiuti per i primi 5 anni di attività, quindi immaginavamo un risparmio complessivo di 7500 euro. Ora, allo stato attuale abbiamo comunque avuto un saldo positivo nel senso che abbiamo registrato nel centro storico, nel perimetro individuato dal Consiglio Comunale, molto ristretto, comunque un aumento delle attività commerciali, poco meno di una decina e adesso sono in corso di istruttore a diverse domande. Quindi diciamo che rispetto alla tendenza generale che è quella di contrazione delle attività commerciali, noi abbiamo avuto un primo segnale positivo e che quindi abbiamo potuto, anche se non si è esaurita la fase istruttoria, anche perché la tassa rifiuti prevede un po' di sfasamento tra il momento dell'imposizione e quello del pagamento, per cui dal 16 aprile, che è il momento dell'ultima rata, potranno essere richiesti rimborsi per le tasse già pagate. Direttore, le piace questa proposta? L'ha riscontrata in altri comuni oppure no? Ma questo è un classico esempio, come veniva anche prima detto nell'intervista fatta a Remondelli, in cui quando si trova una soluzione rispetto alla quale c'è la collaborazione fra gli imprenditori e l'amministrazione comunale, qualche buon risultato effettivamente si può vedere. È chiaro che non ci sono, come diceva l'assessore, dei margini di manovra talmente ampi da chissà quale incentivo potersi inventare, però questo è già un grandissimo segnale di come si cerca di fare in modo che si vede la struttura imprenditoriale commerciale come una risorsa per il territorio, non come purtroppo, senza polemiche lo dico, avviene in qualche altro comune, fortunatamente pochissimi, in cui quasi il commercio o altre attività imprenditoriali vengano viste come una sorta di pallo al piede della società di quel territorio comunale. Ad Avellino com'è la situazione? Ad Avellino è una situazione rispetto alla quale non tanto con questa amministrazione, ma lo dico senza remore perché ne abbiamo parlato per anni, purtroppo con amministrazioni precedenti non esisteva il fatto che mancasse il dialogo, ma veniva quasi visto tutto il comparto imprenditoriale del terziario, io non parlo del commercio, ma proprio del terziario, quasi come una sorta, voglio esagerare, di fastidio e non come forse l'unica vera risorsa imprenditoriale che una città come Avellino, che non ha particolari attività industriali, non ha particolare vocazione agricola proprio per la caratteristica del territorio e quindi andava visto, ripeto, il terziario veramente come una delle risorse, non da fare chissà che cosa, ma quantomeno non ostacolarla, non mettere il bastone fra le ruote. Quindi che ben venga un'iniziativa di questo tipo e mi auguro che effettivamente con il confronto costruttivo continuo si possano individuare anche altre soluzioni che poi non sono a vantaggio del commercio, ma sono a vantaggio della città e di tutti i cittadini. È un discorso ben preciso questo. Sempre a Grotta Minarda, abbiamo fatto un piccolo sondaggio poi sul corso principale, anche senza telecamere. Ci hanno raccontato, direttore, che loro temono, non la grande distribuzione, ormai è passato... È in grandissima crisi la grande distribuzione. Scusate il gioco di parole, però è così. No, 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 ne parleremo a brevissimo, però loro temono se l'arrivo di piattaforme commerciali intendono ad esempio le grandi... faccio uno per tutti, Pitta Rossa, che comunque si occupa del calzatoreficio, quindi voi avete contezza se c'è qualche manifestazione di interesse oppure l'Irpinia, Valle Ufite, insomma non viene, non fa gola poi in effetti. Non c'è un numero adeguato di potenziali clienti da attirare tanto queste piattaforme, però il rischio che si corre, qui purtroppo è tutto legato a una carenza di programmazione commerciale nei vari comuni, non tanto per negligenza dei comuni, proprio perché si è confuso la liberalizzazione del commercio con l'anarchia totale legata alla mancanza di ogni regola in alcuni casi, per quanto riguarda il commercio, perché qui nessuno, il 2016 vuole sostenere la limitazione nel campo commerciale, la negazione della libera attività commerciale, però che ci siano delle regole legate al territorio, questo ritengo che siano fondamentali, perché il rischio grosso a cui siamo... più che il rischio ci sono delle realtà e dei comparti che purtroppo vivono ormai una situazione talmente di grande difficoltà, mi riferisco ai bar, ai pubblici esercizi, dove si confonde l'apertura di un bar come una scommessa per vincere il problema della disoccupazione, cioè il giovane disoccupato negli ultimi anni fa una grande scommessa aprendo un bar, perché sono attività liberalizzata, senza avere esperienza, sobbarcandosi a un fitto all'investimento per attrezzare il bar e fa due danni, non uno. Primo c'è il rischio, questo è un dato statistico, cioè non è un'ipotesi che noi facciamo, purtroppo sono già realtà che viviamo da anni. Lui, questa attività praticamente rischia in sei mesi di fallire, però trovandosi lui e la sua famiglia indebitato fino al collo per aver aperto questa attività. In quei sei mesi ha creato anche grave danno ai concorrenti, ai bar resistenti, perché sostanzialmente ci troviamo con strade di 100 metri di lunghezza e sei bar su quella strada. Questo è legato alla liberalizzazione. Qualcuno potrebbe dire, lo dico io per prima, no ma la libera concorrenza fa bene al commercio, soprattutto nell'interesse del consumatore. Non è così, non è una regola certa, perché il rischio invece a cui porta tutto questo è che si abbassa il livello del servizio dei bar, si impoveriscono le attività commerciali, a volte c'è il rischio che il prodotto non sia buono, che le attività falliscono, senza che il cliente goda di qualche beneficio. Ci vogliono delle regole, e mi auguro che anche a livello nazionale possa essere fatta qualche riflessione, perché ad esempio qualche vincolo oggi come oggi, con i vecchi piani commerciali come definizione, nei centri storici può essere ancora messo, cioè o qualche incentivo o qualche vincolo, in maniera da salvaguardare anche la struttura esistente. Però è sotto gli occhi di tutti il disastro che è stato fatto in Campania, con un'apertura forse nata di centri commerciali, di dimensioni anche estreme, non tanto ad Avellino, perché Avellino è una realtà da 450.000 abitanti l'intera provincia, ma i disastri che sono stati fatti anche nelle altre province, con centri commerciali da 80-90.000 metri quadri, che sono sorti dappertutto, e alla fine stanno tutti in grandissima difficoltà finanziarie. Vuole vedere questa storia? Prego. Vediamola, da Mirabella Eclano. Mirabella Eclano, dal punto di vista commerciale, è ancora vivace? Per quanto riguarda il commercio, sicuramente a Mirabella Eclano si registra una situazione che potremmo definire molto anomala, in quanto abbiamo una frazione Passo Eclano che è diventata sicuramente un importante polo commerciale che riesce ad attirare anche le popolazioni limitrofe. Sicuramente il successo commerciale di questa frazione è dovuta sia alla posizione assolutamente strategica di cui gode, visto che sorge sulla statale 90 delle Puglie, ma soprattutto per la presenza della grande distribuzione organizzata, che rappresenta la vera attrattiva di questo polo commerciale e che è riuscita a fare anche da traino per quanto riguarda le piccole attività commerciali. D'altro canto abbiamo invece un centro storico che purtroppo, devo dire, dal punto di vista commerciale, resta sempre più chiuso e sempre più isolato, con moltissime attività che chiudono purtroppo i battenti e con molte attività che si trasferiscono altrove, molte di queste proprio nella frazione Passo Eclano. Questo dato è sicuramente un dato molto avvilente per una realtà come quella di Mirabella che, come si sa, è stato sempre un paese ad altissima vocazione commerciale in tutta l'Irpinia. Ovviamente una tale discrasia in un'unica realtà territoriale, pergiunta in una realtà territoriale molto circoscritta come quella di Mirabella, sicuramente non può esistere. Secondo voi che rappresentate il parlamentino cittadino, ci sarebbe qualche proposta da portare avanti per eliminare questa discrasia, come lei ha detto? Sicuramente, come il gruppo Bene Comune più volte ha fatto, già a partire dal nostro programma elettorale, occorrerebbero sicuramente degli incentivi alle attività commerciali all'interno del centro storico, proprio per dare una nuova linfa a quest'ultimo. Una linfa in termini sia occupazionali, ma anche in termini sociali. Passo Eclano, nello specifico, qui c'è la grande distribuzione, ma c'è anche una grande vertenza che poi incombe nel territorio. 30 famiglie non hanno più lavoro, c'è il Mercatone 1 che ha sospeso le attività. Quali sono poi le conseguenze che si sono registrate in questi mesi? Questa sospensione del punto vendita del Mercatone 1, dovuta al commissariamento che sta subendo questo gruppo ai sensi della legge Marzano, sicuramente rappresenta un dato fortemente negativo per l'economia di Mirabelle Clano. Un dato negativo anche e soprattutto dal punto di vista occupazionale, perché abbiamo 30 famiglie che versano in uno stato di cassa integrazione e molte di queste sono famiglie monoreddito. Questo punto vendita, appunto, come dicevo, resta un punto vendita sospeso. Entro giugno ci saranno delle manifestazioni di interesse per l'acquisto dell'intero gruppo e si spera quindi quanto prima che questo punto vendita di Mirabella possa riaprire le sue porte. I centri commerciali, secondo lei, sono sovradimensionati rispetto al bacino d'utenza? Quindi parliamo ovviamente della frazione di Passo Eclano. Facciamo un discorso prima di carattere generale, poi ci colleghiamo a Mirabella e a Passo Eclano. La confusione che è stata fatta negli anni è che la grande distribuzione poteva portare esclusivamente benessere al territorio. Invece c'erano due valutazioni da fare. La prima è di impatto ambientale. Si parla tanto di salvaguardia dell'ambiente ma ci sono delle aree in cui sono surti di centri commerciali, non in questo caso specifico io sto parlando in generale, dove praticamente in termini di viabilità si è intasato tutto, si è bloccato tutto e quindi non sappiamo a livello di inquinamento che cosa accade in quelle aree. Secondo problema, ha creato enormi difficoltà alla piccola distribuzione. Terzo problema, sono surti spesso e volentieri senza una razionalizzazione a monte, perché c'erano i piani commerciali, c'era la programmazione regionale che li avrebbe dovuti vincolare, ma la Regione Campania follemente, al di là del colore politico, in certi momenti ha quasi permesso una liberalizzazione della grande distribuzione. Questo è stato il vero dramma rispetto al quale noi ci siamo trovati. E purtroppo sostenere la tesi che andavano limitati i centri commerciali, poteva quasi sembrare, uso sempre un eufemismo, anacronistico, perché venivano visti come la novità, il futuro e così via. Oggi, nel 2016, ci siamo accorti che sono certamente una forma di vendita molto evoluta, ma certamente non risolvono il problema per tutti i consumatori e soprattutto hanno creato anche degli sconquassi in termini economici, nel senso che dove c'è stato un numero non limitato, ma proporzionato alla realtà territoriale. Cioè, se io ho un territorio da 400.000 abitanti, è chiaro che più di totto non ne posso mettere. Se ho un territorio da 4 milioni di abitanti, automaticamente il discorso è diverso. Ma se io su 400.000 abitanti vado a mettere un numero enorme di grande distribuzione, non va bene la grande distribuzione, cioè il paradosso che è avvenuto in Campania e che a un certo punto più o meno la piccola distribuzione si era adeguata alla crisi e quindi quelli che erano organizzati riuscivano a sopravvivere. La grande distribuzione è andata quasi completamente in difficoltà enorme da un punto di vista finanziario, perché non riuscivano assolutamente a coprire i costi enormi che hanno strutture del genere. A questo aggiungiamoci anche il problema dei parcheggi, perché si è preteso in certa realtà addirittura di far nascere una grande distribuzione quasi all'interno di un centro abitato senza viabilità, ma soprattutto senza parcheggi. Quindi effettivamente iniziative che non avevano né capo né coda da questo punto di vista. E invece di passo e clano? Di passo e clano. Quindi adesso fortunatamente c'è una fase quasi in cui non si vedono più queste aperture folli dalla sera alla mattina di grande distribuzione. Anche perché, e qui arriviamo alla questione di passo di Mirabella, quasi tutti i grandi gruppi, quando parlo di grandi gruppi, parlo di Liga delle Cooperative, Carrefour e così via, hanno fatto una ristrutturazione fortissima del personale. Perché l'incentivo qual'era? Io apro una grande distribuzione e creo 30 posti di lavoro, 80 posti di lavoro, 200 posti di lavoro. Con la crisi molti di quei posti di lavoro in tante situazioni si sono persi. Passo e clano. Passo e clano purtroppo è diventato un polo commerciale perché, e veniva anche detto correttamente nel servizio, sta attirando gente. Però i clienti dell'area, i potenziali clienti dell'area, quelli sono, o vanno al passo o vanno al centro storico. Allora, o il centro storico, e qui adesso vediamo anche che cosa si può fare, si organizza nel senso che si individua una sorta di forma di centro commerciale naturale fra gli operatori dell'area, l'amministrazione supporta con dei parcheggi e quindi è una viabilità che consente al cliente di arrivare agevolmente, di fermare la macchina e così via, un po' le stesse cose che normalmente offre un centro commerciale come normalmente lo intendiamo. E fare in modo che i piccoli si organizzino con forme comuni di pubblicità, di iniziative e così via, per attirare l'attenzione anche di quell'area del centro storico. Però ragioniamo sempre che oltre quel totto di grande distribuzione un territorio non la sopporta, non può sopportarlo. Questo è il punto. E invece ad Ariano Assessore Gambaporta, come mai secondo lei la grande distribuzione organizzata, quindi centri commerciali, non hanno avuto fortuna? Beh, fino a qualche anno fa qualcuno pensava che era stata persa un treno. In effetti forse abbiamo avuto una grande fortuna. Negli ultimi anni, perlomeno quelli della nostra amministrazione, nessuno ha mai fatto questo, ha presentato una proposta del genere, tantomeno poi c'erano le condizioni pure a livello regionale di prevederlo, perché poi nel 2004 l'hanno proprio congelato, perlomeno sono state proprio congelate come ipotesi di organizzazione del commercio. Per cui si è sviluppato in modo naturale a questi agglomerati di attività commerciali come accardito, dove in effetti si è creato un vero e proprio centro commerciale naturale, ma come anche è successo nel centro storico. Per cui in questi due poli, per quanto i centri storici un po' in tutta Italia stanno attraversando un momento di crisi, il centro storico di Ariano ha comunque resistito, resiste anche in maniera molto prepotente, anche perché poi ha la possibilità di utilizzare una serie di, oltre che di strutture, anche una serie di servizi aggiuntivi che permettono l'accesso e anche invoiano l'accesso nel centro storico. Abbiamo almeno quattro musei riorganizzati che prevedono l'apertura mattina e pomeriggio, proprio per poter immaginare a un maggior flusso possibile nel centro, come pure c'è stata una riorganizzazione delle manifestazioni, il rilancio di manifestazioni storiche come quella di Classica Ariano, che ha ormai un calendario molto ricco, prevede almeno tre giornate al mese con dei concerti che portano diverse centinaia di persone nel centro storico. Io le volevo dire, siccome abbiamo prima un contributo da Via Cardito, che è questo consorzio, cioè questo centro commerciale naturale, che riunisce un centinaio di attività, noi abbiamo intervistato il presidente che è Nicola Grasso, tra l'altro lo stesso guida anche Erpina Com, il consorzio di promozione commerciale della provincia con 220 aziende. Quindi sentiamo prima cosa dice e poi replichiamo. Come Erpina Com, ma anche come centro naturale Via Cardito, voi siete un osservatorio privilegiato in qualche modo, avete il polso della situazione sia per gli aspetti critici, ma anche per le positività. Quali sono? Noi con il consorzio, che è di ambito provinciale, come correttamente diceva, sono ormai dieci anni e più che effettivamente abbiamo notato che in provincia ci sono cresciuti dei poli commerciali a discapito però di altre realtà. E quindi per non andare troppo fuori è normale che il polo commerciale di Mirabelle Clano, semmai è andato un po' a discapito di attività che nel circondario avevano un loro bacino di utenza che è venuto meno. Il polo commerciale direi di Torrette di Mercogliano ha un po' messo in crisi, semmai, il commercio Navellino Centro e il centro commerciale di Via Cardito effettivamente ha drenato un po' di risorse dal commercio del centro di Ariano ma anche dei paesi limitrofi. Questo poi bisogna vederlo diciamo sempre dall'aspetto, come dire, io dico positivo nel senso che sicuramente un'offerta commerciale più forte, più presente dovrebbe dare impulso anche a quelle attività semmai che soffrono. Posso fare un esempio nel settore appunto dell'abbigliamento delle calzature in un chilometro di strada in Via Cardito si contano 40-45 attività che a volte non vengono neanche promozionate al meglio perché sfido di trovare 45 attività di un unico settore in qualsiasi centro commerciale al chiuso direi che tanto vanno in boga nelle vicine Caserta, Benevento, Napoli. Questo poi non è un aspetto anche a doppio taglio, quindi negativo poi sul fatturato. Troppi esercizi commerciali della stessa natura? Non credo, anzi io dico che una sana concorrenza fa sempre bene anche perché poi il target per usare un termine più tecnico è veramente per tutte le fasce di richiesta perché si va dal negozio outlet alla boutique con grandi marchi dove l'utente finale sa che deve spendere e sicuramente per quello che dicevo prima avere dei costi sotto controllo far sì che poi questi negozi possano sopravvivere rispetto al negozio che ha le stesse diciamo mercanzie però in un centro più grande dove sicuramente i costi di gestione sono più alti. Ma com'è la vita? L'ultima domanda le faccio di un commerciante di via cardito, è semplice e facile? Diciamo che negli anni la figura si è dovuta per forza di cose evolvere perché forse il termine commerciante oggi ci sta un po' stretto perché bisogna essere imprenditori della propria azienda. Molte sono aziende a conduzione familiare con due o tre addetti quindi non abbiamo a parte qualche caso di aziende più strutturate con più dipendenti ma il grosso dico la spina dorsale è fatta da aziende e da imprenditori che la mattina come dire devono sapere bene come la giornata si deve sviluppare e non ci si può più improvvisare perché altrimenti il destino è segnato. Quante attività nuove sono nate ad Ariamo nel 2015? Allora nel 2015 abbiamo registrato 40 nuove aperture però d'altra parte abbiamo avuto una trentina di chiusure poco meno di 30, comunque abbiamo un saldo positivo quindi questo ancora di più di solito c'è stato praticamente il subingresso quindi diciamo che nella maggior parte dei casi si è avuto la sostituzione di un negozio con un altro e in netti abbiamo avuto una quindicina di attività nuove in tutta Ariano. Ma ci sono, scelgono ancora Ariano dalla provincia per aprire un nuovo negozio? Sì comunque viene considerato un mercato comunque molto appetibile perché ci sono diverse persone che scelgono di fare questa esperienza oppure di aprire una seconda attività proprio nel comune di Ariano quindi diciamo che i comuni viciniori ci aiutano in questo perché ci sono diverse persone che scelgono di vivere ad Ariano prima di tutto e poi di fare impresa ad Ariano. Direttore, lei invece i suoi associati che cosa dicono della città di Ariano dal punto di vista commerciale? Come se la passano? Chiaramente sempre legato a un ambito di crisi purtroppo strutturale degli ultimi anni però Ariano è una di quelle realtà fortunatamente che ancora riesce a reggere ci sono altre realtà dove purtroppo la crisi è stata molto più forte questo non significa che ad Ariano crisi non ce ne sia stata, anzi le difficoltà sono state notevolissime però fortunatamente un po' per le caratteristiche, per le capacità imprenditoriali anche degli arianesi sostanzialmente stringendo i denti si riesce ad andare avanti. Un'altra componente importante è quella del ricambio poi generazionale perché questo automaticamente comporta come accennava pure prima l'assessore dove c'è un ricambio generazionale all'interno dell'attività commerciale c'è anche una spinta verso l'innovazione ed è fondamentale che chiaramente un imprenditore del terziario del commercio guardi soprattutto a questo tipo di cose. Invece andando nel centro storico del Tricolle abbiamo raccolto un'altra testimonianza, eccola. Quali sono le criticità che vive un'attività commerciale nel centro storico del Tricolle? Le criticità sono quelle che ogni giorno ci riportano i nostri clienti, cioè vuol dire il problema principale è quello della viabilità, cioè trovano un grande scoglio che è quello del traffico giù accardito, gente che parte con due o tre ore di anticipo e poi arriva qui al centro in magari un orario di chiusura senza immaginarlo nemmeno. Oppure un altro problema grave è quello della mancanza di parcheggi, cioè o meglio ci sono tre grandi parcheggi, tre grandi opere in computer non utilizzate, quella più grave è quella che si trova a 20 metri dal centro, che è a Calvario, una località a Calvario, dove da due anni a questa parte non viene più utilizzato e noi non sappiamo per quale motivo. Questo è grave perché quello sarebbe un grande parcheggio che raccoglie tantissime auto vicino al corso. Qual è un'idea che potrebbe essere accolta da chi governa la città? Allora, guarda, semplicemente secondo me non c'è bisogno di grandi opere, di grandi finanziamenti europei, questi enormi finanziamenti, semplicemente basterebbe rendere fruibile quello che già c'è, cioè senza fare grandi investimenti, creare, di sbloccare quel tappo che si crea accardito con dei dissuasori, adesso non sono tecnico, però credo che ci siano delle possibilità, come succede in tutte le città, di evitare quell'imbottigliamento giù accardito e questo sarebbe importante. Secondo, rendere possibile l'accesso alla città con una segnaletica adeguata, con un'accoglienza un po' più semplice e dei parcheggi accessibili a tutti, che mancano, cioè ci sono ma non sono utilizzati e questo è gravissimo. Quindi conviene o no avere un esercizio commerciale sul tricolle? Sì, conviene, noi ci crediamo ancora, crediamo nel centro storico di Ariano. Loro ci credono ancora, però vorrebbero delle risposte da lei, Assessore. Innanzitutto, che cosa possiamo dire di questo silos calvario che attualmente è aperto solo un piano? Quando si sbloccherà questa situazione? Allora, i lavori sono stati completati già da un po' di settimane, tutte le prescrizioni che c'erano state fatte dai vigili del fuoco sono state realizzate tutte le opere necessarie per avere tutte le autorizzazioni, quindi ci sono stati degli interventi sull'impianto elettrico, sulla segnaletica, piccoli lavori di muratura, tutto quello che era necessario. La struttura è oggi completa, l'unica cosa è che non abbiamo ancora deciso come gestire la struttura, quindi immaginare un controllo maggiore. Esistono le telecamere, sono già funzionanti, quindi questo lo possiamo già dire, e sono già da un paio di settimane che sorvegliamo, video sorvegliamo la struttura. Ripeto, l'unica, diciamo, servirà un po' di tempo per decidere come gestirlo, cioè se farlo con dipendenti comunali, se organizzarlo con delle strutture automaticamente, quindi con il biglietto di ingresso e di uscita, quindi è solo questo da decidere, ma la struttura ad oggi è completa ed è la struttura, chiaramente il parcheggio più grande che sicuramente darà uno sbocco, anche perché per i commercianti, sempre l'amministrazione ha comunque immaginato che avessero la possibilità di utilizzarlo con un costo ridottissimo. Abbiamo immaginato che i commercianti, come magari i dipendenti degli uffici presenti nel centro, pagassero 12 euro al mese l'utilizzo del parcheggio, che è parsa comunque, è stata anche accolta di buon grado da tutti gli operatori del settore. Abbiamo parificato il commerciante a un nostro dipendente, perché li consideriamo parte della famiglia, la struttura, appunto, gli imprenditori e i commercianti. I lavori verranno ripresi anche per il secondo parcheggio, quello di Rione Valle, dove anche in quel caso ci saranno pochi interventi di realizzare, però sicuramente a breve verrà riaperta la struttura già completa e già videosorvegliata. Però il nodo chiave ad Ariano è la SS90 delle Puglie, sicuramente anche il direttore ne avrà conchezza. Lì che cosa c'è? Un progetto già sul tavolo? Qualche proposta? Effettivamente il problema esiste e deve essere affrontato? Sicuramente verrà affrontato in consiglio comunale, e già nell'elenco, diciamo, già è all'ordine del giorno, già è stato istruito il fascicolo per la discussione. Chiaramente è una decisione che verrà presa dal consiglio comunale, non dal singolo assessore, tantomeno da quella al commercio, perché poi ci sono gli assessori competenti per materia, ma è già istruito il fascicolo, quindi anche questo penso che avrà una risposta a breve tempo, è all'ordine del giorno. C'è un'altra struttura, direttore, lei forse la ricorderà, Andriano era ricordata per il Giorgione, lo storico hotel. Questo complesso verrà abbattuto a giugno e all'inizio di giugno, e anche su questo, assessore Gamma Porte, i commercianti arianesi sono preoccupati, vogliono comprendere un po' le modalità di abbattimento, la tempistica, ma la domanda chiave è questa, loro dovranno chiudere temporaneamente oppure non sarà necessario? Allora, io capisco qualche momento di dubbio, però insomma ad oggi questa amministrazione è riuscita ad avere, a completare diverse opere incompiute, quindi diciamo che ad oggi non abbiamo alle spalle opere incompiute, al massimo ci possono dire che abbiamo completato delle opere, sicuramente lasciate abbandonate a se stesso, abbiamo recuperato totalmente l'agibilità del cinema comunale, ed è stato un primo grande risultato, quindi che può essere utilizzato nella sua pienezza, quindi non più con limiti di capienza, ma per tutti i posti a sedere possibili, è stata recuperata la struttura del Museo delle Ceramiche, anche quella non aveva tutti i requisiti, abbiamo certificato la struttura, è adesso venuta utilizzata per convegni, corsi di formazione, concerti, dibattiti, abbiamo ottenuto anche in questo caso tutte le autorizzazioni per il parcheggio multipiano del Silos Calvario, e ci aspettiamo un po' di fiducia, sicuramente era un'opera abbandonata a se stessa da diversi anni, è nata grazie anche alle capacità politiche di chi ci guida, di trovare la possibilità di avere un finanziamento ed un destino a quella struttura abbandonata a se stessa, verrà realizzata una scuola alberghiera con un ristorante didattico di ultima generazione ed è in corso di firma il contratto con l'impresa che ha vinto la gara per l'abbattimento. Parliamo di un'impresa sannita, giusto? Sì, è un'impresa sannita, non c'è ancora un cronoprogramma perché parliamo di giorni, magari tra qualche giorno riusciremo ad avere sicuramente le date, però non dovrebbe essere un cantiere lungo, non dovrebbe comportare, parla il condizionale perché chiaramente fino alla firma del contratto non si possono prendere impegni, non dovrebbero comportare grandi interruzioni del traffico, tant'è vero che la programmazione delle varie manifestazioni non ha subito alcuna modifica. Comunque nelle varie manifestazioni verranno svolte su via d'afflitto. Quindi lei dice un paio di giorni, la prossima settimana e si chiarirà questo aspetto? Credo di sì. Bene, questo lo prendiamo, lo mettiamo in calendario anche noi. E in Sass, per questi problemi che ha elencato questa intervista video, c'è anche chi ha dovuto completamente reinventarsi, quasi completamente, un'attività storica in via d'afflitto che poi ha deciso di scommettere sull'online, sull'e-commerce, è un negozio quindi 2.0, tra l'altro come dicevamo prima, generazioni che si susseguono, quindi l'innovazione è portata, la ventata di freschezza portata appunto dalla nuova generazione. Quindi vediamola. Quanto è importante l'e-commerce per un esercizio commerciale di oggi? Per me l'e-commerce è importantissimo, soprattutto negli ultimi anni, perché ha avuto un valore a livello mondiale, anche perché i primi acquisti sono stati fatti soprattutto all'estero e poi col passare degli anni è stata di nuovo conosciuta in Italia. e posso dire che l'e-commerce fatta in maniera perbene e non superficiale può dare grandi risultati, soprattutto perché ti dà una conoscenza a livello mondiale e non più a livello come una vendita diretta, ti dà una conoscenza a livello provinciale. Quindi possiamo dire che l'e-commerce, secondo me, ovviamente, fatto in maniera anche veloce, nella spedizione soprattutto, è fatta con un prodotto alto e anche ricercato, soprattutto nei materiali e soprattutto nei marchi, dà grandi risultati. Quali sono però le regole da tenere sempre in considerazione? La velocità di spedizione è la primissima regola, secondo me. Poi posso anche sbagliarmi. Poi un'altra regola è che il prodotto deve essere confezionato in maniera adatta, perché un confezionamento in maniera superficiale si rovina soprattutto il prodotto e poi è anche una cattiva figura nei confronti del cliente. E poi penso che un'altra regola, secondo me, è dare anche qualche promozione nei periodi, diciamo, prima dei saldi al cliente per abituarlo a comprare nei nostri siti. Come nasce questa scelta? Al di là dell'evoluzione, dei tempi, è dettata anche da qualche altra valutazione che un negozio nel centro storico di Ariano ha dovuto fare? Noi questo progetto io l'avevo pensato già tanti anni fa, però è stato creato, diciamo, un anno fa perché ci dovevamo adeguare nei tempi. Però, purtroppo, le problematiche nel paese ci sono. Mi spiace dirlo perché io sono molto attaccato ad Ariano, ma le problematiche sono due. Sia la chiusura del tribunale e sia la viabilità accardita che ci hanno reso purtroppo dei periodi molto difficili anche perché abbiamo avuto, lo ammetto, un callo della clientela perché noi, le persone che vengono nei nostri punti vendita si vengono molto anche da fuori e quindi sono costretti a fare ore di coda e alcuni purtroppo si girano quindi non riescono nemmeno ad arrivare ad Ariano. e devo dire fare una critica perché mi spiace farla ma la devo perché sono state fatte tante promesse tanti progetti ma alla fine sono un'idea vera concreta non c'è stata quindi noi viviamo nell'eterna promessa. Assessore vuole replicare? Ma non so di quali promesse sta parlando il signor Maraia sicuramente immaginare che ci vogliono delle ore per arrivare ad Ariano mi sembra forse si fermano a Foggia non vengono ad Ariano perché non posso immaginare che ci vogliono una mezz'oretta però assessore ci vuole sicuramente ci vuole una mezz'oretta però anche in un'altra intervista ho sentito anche due tre ore poi questa è una mia riflessione personale che nasce un po' dallo studio che ho fatto perché comunque sia di economia e commercio tra le varie materie c'era proprio la geografia economica e da sempre il commercio nasce sulle vie di comunicazione sottovalutare l'importanza di un'arteria come quella della Statale 90 forse diciamo non è proprio corretto sminuire l'importanza di quella strada perché probabilmente nel corso della storia man mano che si sono spostate le strade e la comunicazione si è spostato il commercio perché il commercio segue la viabilità quindi immaginare che sia un problema poter diciamo creare diciamo avere dei percorsi io ripeto una mia opinione personale immaginare un'arteria che tagli cardito e porti verso campo reale per quelli che sono d'Ariano conoscono bene le tratte significherebbe tagliare fuori Ariano dal commercio questa è una mia opinione personale però ripeto capisco capisco molte volte la diciamo la rabbia la rabbia anche che alcuni commercianti hanno e sono felice anche per questo perché il fatto che ci siano dei commercianti così vivaci e anche così appassionati significa che Ariano è vivo cioè io ritengo che ogni volta che c'è una discussione una polemica significa che c'è attaccamento e amore noi non abbiamo ancora commercianti scoraggiati quindi per me è un punto di forza e sicuramente un bel punto di inizio però ripeto stiamo lavorando su tanti progetti non è vero che sono parole non è vero che sono solo parole magari il tempo ci darà atto e magari tra qualche mese risentiremo il signor Maraia lei invece è d'accordo all'espressione se non sei online non esisti indubbiamente ormai non dico che significa scoprire l'acqua calda ma ci siamo vicini è una forma essenziale di evoluzione di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale non solo delle attività commerciali cioè oggi se non hai una vetrina online effettivamente non riesci a raggiungere potenzialmente tutti quelli che devi raggiungere se vuoi fare l'imprenditore quindi io devo dire la verità qui i due che sono stati intervistati guardo nel video in effetti dove è stato trasmesso il servizio sono due esempi non so se di ricambio generazionale ma certamente di due giovani imprenditori due ricambi generazionali manco a farlo apposta ma di due anche i giovani imprenditori con idee abbastanza precise io non ho sentito le vecchie solite lamentele da Brontoluni ma ho sentito un'analisi anche una critica però costruttiva cioè legata a migliorare per il futuro per fare in modo che venga garantito il futuro di tutti quindi delle attività imprenditoriali ma anche dei cittadini si è parlato di viabilità si è parlato di parcheggi di un'evoluzione dell'attivo di attività per quanto riguarda il problema della strada statale 90 e in effetti non è tanto un problema di bypassare tutta cardito dal carcere alla galleria l'esigenza è quella di far arrivare velocemente in centro o nel centro storico le persone e garantire poi i parcheggi adeguati sempre lì cioè è chiaro che se si bypassa tutta quest'area giù sostanzialmente si rischia di distruggere una realtà che ormai si è sviluppata e porta ritengo benessere alla città di Ariano ma l'importante è non far sentire isolati tutti quelli che stanno sopra cioè la valutazione attenta da fare è come io posso far arrivare nel centro di Ariano velocemente qualcuno e garantirgli poi il parcheggio senza tagliare cardito però è questo che poi era anche la richiesta da parte del primo commerciante del primo imprenditore quindi ed è fondamentale perché altrimenti abbiamo una compensazione cioè li ho persi al centro ho guadagnato potenziali clienti giù a cardito ma io devo aumentare la potenziale clientela altrimenti ho solo un riequilibrio della situazione ma il numero complessivo è sempre lo stesso quindi ad esempio il primo tratto della Lioni Contursi a Grotta Minarda questa variante che è stata fatta un po' ha creato questi disservizi questi problemi lei sicuramente avrà anche ascoltato i suoi associati in merito ma il problema fondamentale delle attività imprenditoriali del terziario quindi chiaramente automaticamente del commercio e del turismo e loro con un grande senso di responsabilità e anche senso di senso di critica costruttiva hanno bisogno delle cose che sono state dette nei servizi cioè mi dovete garantire la viabilità e i parcheggi io non voglio tappi e voglio che quando qualcuno arriva con l'auto praticamente pagando il giusto non cifre sproporzionate automaticamente riesca a ottenere quello che serve in un tempo estremamente rapido quello ripeto che è lo spirito dei centri commerciali to cool cioè come siamo abituati a vederli e che dovrebbero rappresentare tutte quelle condizioni al contorno anche dei centri commerciali naturali come ad esempio quello di Cartito apriamo una finestra su Benevento sulla città di Benevento perché qui Teresa Lombardo ha intervistato Luigi Alvigi numero uno della Conf Esercenti anche Alvigi racconta di un settore che ha perso un po' il ruolo da traino nel capoluogo Sagnita e di un corso quasi spento Di cosa ha bisogno questa città e soprattutto di cosa ha bisogno la sua categoria? Abbiamo bisogno innanzitutto di riconsiderare la pedonalizzazione totale al centro storico noi come Conf Esercenti stiamo facendo un sondaggio che sta girando in questi giorni per rivalutare la possibilità di un transito al corso Garibaldi è fondamentale per riprendere un po' che è il possesso commerciale di questa cittadina troppo vasta troppo ampia l'area siamo d'accordo con il prefestivo e il festivo vogliamo di nuovo durante la settimana il traffico veicolare vogliamo di nuovo i parcheggi di questo centro vogliamo di nuovo tutti gli enti pubblici che sono andati via vogliamo un palazzo Paolo V con la pubblica amministrazione e vogliamo di nuovo una città viva che ad oggi purtroppo manca questo per quanto riguarda la nostra categoria lei ha detto poco anzi ha parlato un po' delle difficoltà dei commercianti fondamentalmente se voi vedete il centro storico non abbiamo mai avuto tante attività chiuse tanti locali sfitti ormai già da un paio d'anni senza locazione questo significa che si perde interesse in quest'area che prima era vocazione commerciale altri interventi che potrebbe fare il nuovo sindaco ma il nuovo sindaco innanzitutto deve puntare sulla cultura cosa che ad oggi qua non c'è stato benché i loro dati non so quali dicono il contrario noi consumatori abituali li abbiamo riscontrati solo quelli storici e tradizionali abbiamo perso la provincia innanzitutto perché non è più attratta da questa città commerciale lei avrà sicuramente dei dati per il mondo delle imprese noi abbiamo avuto una chiusura del 30% rispetto agli anni precedenti che è molto molto cresciuta rispetto all'apertura delle partite IVA quindi questo già significa che nel controvalore tra le aperture delle partite IVA e le chiusure abbiamo avuto assolutamente un danno per la nostra città problemi comuni sia ad Avellino Benevento la provincia e appello alle pubbliche amministrazioni fondamentalmente anche la Confcommercio come si orienta qual è l'appello più urgente quello è un classico esempio in cui non c'è stato il corretto dialogo e soprattutto il corretto confronto costruttivo fra associazioni di categorie imprenditori e pubblica amministrazione oltre che anche altre associazioni cittadini consumatori e così via perché tutti vogliamo vivere meglio o un livello migliore di qualità della vita che automaticamente viene abbinato in una qualsiasi cittadina o città alla creazione di ZTL quindi zone a traffico limitato o addirittura proprio aree pedonali il problema è che se non ci sono anche qui delle condizioni al contorno che vengono però precostituite no che prima facciamo la ZTL o l'area pedonale poi vediamo come correggere i danni se non ci sono se queste iniziative non vengono abbinate a condizioni al contorno banali ma precise e rigorosissime quali soprattutto la viabilità che permetta di accedere nelle immediate vicinanze della ZTL e dell'area pedonale e soprattutto parcheggi ubicati in maniera coerente rispetto proprio intorno a quella che è l'area pedonale o le stesse ZTL queste ZTL o aree pedonali rischiano di avere un effetto devastante sulla città o su quelle aree la dimostrazione qual è? la dimostrazione è che se io non ho creato nelle immediate vicinanze parcheggio ma nelle immediate vicinanze non che con la navetta io dal parcheggio arrivo in centro non ci viene nessuno se noi mettiamo condizioni di questo tipo e come avviene in tutte le città evolute d'Italia e d'Europa sostanzialmente noi abbiamo impoverito quell'area creiamo una mortalità imprenditoriale commerciale enorme e creiamo disoccupazione e soprattutto abbassiamo il livello di qualità della vita in quell'area perché soprattutto Desira rischia di essere un'area deserta e questo è il vero rischio che si corre perché purtroppo si parte spesso con la delibera facciamo l'area pedonale facciamo la ZTL e poi si scopre che non c'è il parcheggio proporzionato chiaramente ai potenziali acquirenti o al numero proporzionato al numero di attività commerciali o anche all'estensione dell'area non ci sono parcheggi quindi nelle immediate vicinanze la viabilità si intasa prima di arrivare io ho distrutto quell'area quindi che ben vengano ma sempre con grande razionalità ipotizzare soltanto la ZTL o l'area pedonale rischia poi di provocare effetti dannosissimi come quelli di Benevento io spero che questo confronto sia stato utile un po' alla categoria ma anche alle pubbliche amministrazioni anzi ringraziamo l'assessore al commercio che si è comunque stata molto disponibile a venire in studio e ad ascoltare a recepire suggerimenti proposte e anche insomma delle piccole note critiche quindi con questo si conclude l'ottava puntata di Password invitiamo sempre gli interessati quindi gli operatori del settore a contribuire al dibattito scrivendo sulla nostra pagina ufficiale di Facebook quindi di canale58 oppure all'email infochiocciola canale58.com direttore La Stella io la ringrazio grazie a voi per la sua disponibilità per i suoi anche consigli e le ricette e poi un ringraziamento ai nostri ospiti che sono intervenuti alla redazione di Benevento e di Avelino con Riccardo Di Blasi un grazie anche alla regia con Francesco Lignite e Raffaele Perillo alla prossima Password Grazie a tutti Grazie a tutti.